Signori, abbiamo fatto resuscitare i morti. Sì, abbiamo il potere di far resuscitare i morti. Alzati e cammina. E hanno camminato. Dopo i numeri, non so, 10, 11, 12 partite che perdevano consecutivamente. E sono rivenuti al San Paolo o Maradona che sia e hanno fatto parigi. E hanno avuto un punto. E vabbè, anche statisticamente doveva capitare prima o poi. Però voglio dire, io non sono deluso. Paradossalmente mi è piaciuto più questo Napoli che non quello di Salerno. Sì, mi è piaciuto più questo Napoli che non quello di altre volte. Certo, giocavamo contro una squadra che evidentemente era morribonda. O meglio, era già morto e l'abbiamo fatto resuscitare. quindi il calcio è fatto così però uno deve giudicare quello che ha visto in campo. Ora il Napoli ha fatto una grande ingenuità. Tu attacchi. Anzi, praticamente, io ho detto ma che è successo? Come mai che si stanno attaccando? Non ho mai visto il Napoli di Garzia fare un pressing. insomma, o meglio, ho visto anche col Milano e le cose ma c'era una necessità. Invece è iniziato il secondo tempo a sprombattuto. Il Napoli aveva avuto grandi occasioni. Aveva chiuso nell'aria nell'aria, nell'aria la squadra tedesca. E poi, puff, non c'era nessuna che la parte. Solo lo batte, chissi solo, l'ambienza. E quindi è stata un'ingenuità. Un'ingenuità pagata cara. Ora, credo che chiaramente per fortuna dovremmo passare ugualmente però vedete com'è il calcio. Mettiamo che qualsiasi cosa arriva in Braga ma non so i risultati che farà, eccetera. Bisogna vedere perché il Braga dovrà giocare con l'Unione Berlino, eccetera. Insomma, signori, vedete, qua fino all'ultimo siamo sempre sotto il cielo. C'è una partita che comunque era sotto controllo. Il primo tempo abbiamo visto un Napoli non con un pressing particolare, eccetera, ma che tenesse, che teneva sotto controllo la partita. Ha avuto molte occasioni. Ha avuto il palo di Nathan. Ha avuto un gol annullato ma quel gol annullato e quei ridicoli dei telecronisti credo addirittura che uno fosse se non vorrei sbagliarmi Bergomi che dicevano, no? Sì, sì. Quasi, quasi, diretevano normale un gol quello. Quello era un gol da annullare diecimila volte. Anzi, mi sono meravigliato che lui, che l'arbitro al Barra ancora ci pensava un attimo. Signori, uno che va, insomma, uno che va si appoggia con due mani sulle spalle del giocatore che lo difende e che quindi non può saltare. Come fai a non annullare quel gol? E i telecronisti perché devono essere faziosi? Siccome sono italiani devono fare i faziosi. Siate onesti. Dicevano, no, questo qua a me mi pare fallo. No, si sembreravano così. Comunque, lasciando stare questo, fallo netto, fallo netto, è anche stupido forse perché poi ci poteva arrivare, secondo me, come stava la situazione, ci sarebbe comunque arrivato ugualmente a prendere quel pallone. Comunque, va bene, allora lasciando stare questo. Il Napoli poi è passato in vantaggio con un gol un po' fortunoso perché c'è stata la deviazione e c'è stato il petto, insomma, è stato un po' casuale quello di Politano, però ha meritato, il Napoli ha avuto delle occasioni, ha controllato la partita e paradossalmente nel suo momento migliore, cioè all'inizio del secondo tempo il Napoli si era scatenato. Signori, si era scatenato all'inizio del secondo tempo, aveva messo sotto assedio, quindi è la prima volta, anzi dicevo, ma come vai? È impazzito García, sempre un po' attento a certe cose, attaccava, perché ha detto, boh, sta vincendo la finita che García si mette a controllare, magari si mette indietro, no, no, ha iniziato il secondo tempo, ha sprombattuto, letteralmente messi sotto occasioni, mischi nell'aria, eccetera, così, poi, chiaramente per televisione non hai una panoramica completa, non ti rendevi conto che là dove si venisse su, è arrivata la palla, è chiusa, 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 tutti i difensori vanno per prendere i colpi di testa, Natana ha preso prima l'attraverso, quindi sono buoni i colpi di testa, raccamani, anzi, sono necessari pure, perché non teniamo, praticamente, ausimene, no, e quindi così, però, eh sì, ma uno non può mettersi a rischio, noi abbiamo regalato, noi abbiamo regalato, signori, venghi, no, se abbiamo regalato, abbiamo regalato un pareggio, che praticamente ci elimina sicuramente dal primo posto, perché prima almeno c'avevamo la speranziella, diciamo, di andare magari a Madrid, che so, con una grande partita, con una grande partita, insomma, ribaltavamo certe situazioni, purtroppo no, ma comunque non ci dovrebbe essere problema per quanto riguarda la qualificazione, dobbiamo parlare di Garzia, io non ce l'ho con Garzia stasera, stasera non ce l'ho con Garzia, non ce l'ho con nessuno, la partita, la partita è stata, è stata, è stata, è stata una buona partita del Napoli, sempre considerando che chi li lascia scherzi, e vabbè, però purtroppo non è che possiamo farli diventare dei campioni, questa era la squadra, questo era, e io mi devo, personalmente, con la Salernitana, con la Salernitana non mi è piaciuta, perché io, il Napoli doveva essere costante per tutta la partita, con la Salernitana non l'è stato, è stato quei 20 minuti, poi dove siamo usciati, poi secondo tempo non mi è piaciuto, antipatico Garzia, onestamente, che nella conferenza ne ha detto un'altra delle sue, cioè, quello gli ha detto, ma il primo tempo era buono, secondo non tanto, eccetera, a me mi piace, mi è piaciuto più il secondo tempo, ovviamente lui l'ho fatto per, questo non è un modo corretto, cioè, di prendere in giro le persone, questa intervista di Garzia, a me non mi piacciono, onestamente, è poco rispettoso dei giornalisti, anche se è loro, a loro volta, di che non fissarì, vabbè, comunque, questa è la sostanza, signore, non c'è niente da dire, questo Napoli, la conclusione è, che dalla partita di stasera si vede, Napoli che comunque è una squadra, che ha una sua, che ha una sua unità, che sa col tecnico, che non, è una squadra sotto controllo, cioè, è una squadra, è una bella squadra, che però, evidentemente, evidentemente, questa sera, non me la prenderei neanche con Garzia, certo, è stato questo blackout di quel momento, ha preso questo gol, che aveva fatto pure, Meret aveva fatto pure una grande parata, perché Meret, alla fine, ha fatto una bellissima parata, però, talmente non ci si è finisci una, che la palla è chiudata direttamente, a chi le ha segnato, quindi, diciamo, io, non lo so se hanno fischiato, non si capisce, se hanno fischiato, non hanno fischiato, non me la prendo con Garzia, Garzia dovrà dimostrare, prima di tutto, con l'Empoli, cioè, a me faceva più paura l'Empoli, paura l'Empoli, però adesso, paradossalmente, questo mezzo passo falso, farà tenere le persone concentrate, per la partita con l'Empoli, la cosa importante saranno, tre partite consecutive, con Atalanta, Inter, e Juventus, al ritorno, dalla sosta, e secondo me, non ci stiamo niente a fare, con l'Inter, devi vincere, quella per me l'ha partita, mi accontenterà anche, di due pareggi, Atalanta e Juventus, ma vittorio con l'Inter, la devi dimostrare, qualcosa, perché non è possibile, se no, cioè, noi in casa, mi pare che stiamo facendo, fatti schifo, sì, tranne la prima, la prima partita, col Sassuolo, e con l'Udinese, ma poi, mi ha perso, mi ha pareggiato, cosa, oggi, sì, signori, non prendiamocelo con Garzia, la squadra c'è, Garzia potrebbe sicuramente, con Lindstrom, che mi pare che era pimpante, quando è entrato, ha fatto delle cose, buone, forse, poteva, poteva farlo entrare prima, anche perché alcuni giocatori, veramente, erano stanchi, eccetera, onestamente, non me la prendo con Garzia, oramai Garzia sappiamo, come Garzia dovrà dimostrare, a parte la vittoria, assolutamente con l'Empoli, e non è facile, perché l'Empoli è una squadra, che ha un gioco, che può creare dei problemi, sarà il ritorno, una volta vinto con l'Empoli, attenzione, dovremmo parlarne dopo la sosta, Atalanta, Inter e Juventus, diranno la verità.